Ennesima denuncia del consigliere Zuccarello in Via La Farina davanti all'istituto Caio Duilio. Il consigliere armato di Carrozzina insieme a Maria Gangemi di Onlus Carolina provano a percorrere un tratto di Via La Farina simulando il passaggio di un disabile, ma basta poco per rendersi conto che si tratta di un'impresa impossibile, soprattutto nel caso in cui il disabile fosse da solo. Buongiorno, sono Maria Gangemi di Onlus Carolina, inizio in una disabile, a destra ho cani della Onlus per disabili motori, i cani che poi vengono tonati e disabili motori. Mi incontro tantissime difficoltà nell'affrontare questo lavoro, infatti come possiamo vedere già adesso, per poter salire su un marciapiede, ci sono le strisce tonali su cui è parcheggiata una macchina ma manca la rampa per i disabili per poter accedere. Quindi io mi alzo e riesco a salire su un marciapiede. E' impossibile. Stiamo bloccati? Stiamo bloccati. Tutto questo da solo io non si può fare. Assolutamente. Conosco un disabile a cui andrà in dono questo Labrador di Onlus Carolina che gira con la pedana appesa alla sedia a rodelle. Consigliere Zuccarello, noi siamo qua per l'ennesima denuncia. Di che si tratta? Oggi siamo sulla Via La Farina. Come potete vedere siamo sulla marciapiede della Via La Farina che è inaccessibile sia per i pedoni, soprattutto per i disabili. Io ho fatto una richiesta e la medesima richiesta sarà fatta anche dalla stessa scuola Nautico. E questa richiesta io chiedo che ci sia un'area pedonale protetta per il passaggio soprattutto dei disabili. In questo momento è inaccessibile l'area. Quindi io chiedo che l'amministrazione comunale intervenga immediatamente e che sia realmente sensibile a questi problemi. Questo è un solo esempio di questa città. Non riesco a comprendere perché il privato deve continuamente avere degli obblighi normativi all'interno delle proprie strutture e il pubblico invece non si deve mai adeguare.